io non costruirò un omnibus per dei criminali o lo farete come belli oppure faremo una visita alla vostra famigliola lasciateli stare ok 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 Oh, no. Oh, no. Sono Ed Bailey, il solo costruttore di Omnibus della città. Pretendono che lavori per loro. Sia veloce! C'è gente onesta che vuol fondare una compagnia di trascorti. Come dico, in America, dal popolo per il popolo? Questa è l'idea della London General Omnibus Company. Hanno lato dell'arte... Ecco qui! Miggianti ce ne stanno. Non lasciare uscire il bossaio. Ah, beh! Ma sono proprio... Sono proprio... Oh, proprio aspettando quel mommino. Io ho un moglie, sto... Sei entrati in una zona pietata. Mi spiace. Ok. Un altro ce n'è. Un altro ce n'è. C'è anche una scatola di quelle rosse. Lì ce ne stanno due. Lì c'è quella lì che fa continuamente avanti e indietro. Un altro ce n'è. Un altro ce n'è. C'è il senso che deve rimanere al suo posto? Eh, ma lei non scende. Non, c'è il senso che deve rimanere al suo posto. Ok. Noi e 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 se invece lo porca miseria e 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 ma come è possibile che mi ha visto tutti invisibili che sto malvisto e 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 hanno afferrato il messaggio la vostra famiglia è al sicuro ah siete una forza della natura i i membri fondatori della london general omnibus company sono brava gente tutti i nostri omnibus circoleranno presto grazie miss fry di niente e 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 sangue sugli sangue sugli omnibus ne prendo uno voi signore io dico basta con questa generosità verso gli stranieri e pensiamo ai veri bisogni di londra una guida sicura che si impegna a condurci tutti al successo funziona sempre nelle aziende così va il mondo e tu feccia trovati un lavoro le migliori guardie sul mercato il signor dredge è proprio nei guai non non faccio il bambino fincazzato non c'è nessun poliziotto ma se non mi danno fastidio io non li ammazzo c'è nessun poliziotto c'è nessun poliziotto che la faccio e ma è una parola cioè scusa questo qua c'è quello lì c'è questo qui ma faccio sciogliere finiteremo ah gli sperchi rox abbiamo concluo non 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 me lo fa la fine! FRAI! Sei tu? FRAI! Algo sta succedendo. FRAI! Guarda che stai solo sbagliando per il mio amico! Bene così! FRAI! Jacob! Sono io, il sergente Abber! Freddy! Frederick! Sotto copertura. Ci sarà una rapina alla banca d'Inghilterra, ne sono certo. Rapina? È una fortezza! Sì, i ragazzi in centrale credevano scherzassi, ma non sarà divertente per i correntisti. Che c'è dietro? È confidenziale. Oh, forza Freddy, ti aiuterò. Immagina i titoli. Ladri colti sul fatto. Aberline aveva ragione dall'inizio. Beh... Forse posso darti un indizio. Ogni trimestre rapinano una filiale della banca, mai la stessa. I ladri vengono riforniti dai... mercanti di Cocam. Grazie della dritta, Freddy. È Frederick! E... Sappi che ti tengo gli occhi addosso! Minè voleva! Hoi, hoi, hoi. Hoi, hoi! 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 Grazie.